Oggi, compleanno delle Villa Santa Maria, in realtà il lieto evento è stato ad inizio mese ma la società ha preferito a fine anno ricordare questa ricorrenza ai 60 anni di una delle società sportive abruzzesi più longeve e a testimoniare quest'importanza dell'evento anche la partecipazione di esso memmo, presidente regionale della LND Abruzzo una società alla quale lui è particolarmente legato Sì, dici bene, sono particolarmente legato perché intanto nella rappresentazione di quella che è stata questa società una delle persone simbolo che è stata ricordata anche oggi, l'avvocato Pasquale Di Cicco mi legava un'amicizia particolare ed è stato proprio uno dei dirigenti che mi ha voluto fortemente nella rappresentanza del territorio e oggi ho ricordato che sicuramente se sono presidente e rappresento tutte le società sicuramente l'avvocato Di Cicco ha contribuito al mio percorso di crescita ma poi soprattutto oggi quindi ho voluto con la mia presenza dire un grazie particolare a lui e a questa società che come ho detto l'ho incontrata diverse volte sul campo con cui avevamo un'amicizia particolare Un presidio territoriale molto importante per i giovani su questo dorsale del fiume Sangro perché altrimenti bisognerebbe arrivare più in giù, non ci sono altri settori giovanili No, questo è un bel progetto perché cerca di sintetizzare tutti quelli che sono i piccoli centri del territorio quindi si sta facendo un ottimo lavoro, un buon lavoro e sicuramente oggi abbiamo anche con questo incontro avuto uno spirito voglio dire anche di collaborazione, abbiamo capito che la collaborazione è importante tra tutti questi centri ma soprattutto quello che ci interessa è quello di poter far divertire tutti questi giovani e questi ragazzi unendo le proprie forze, purtroppo il problema delle nascite in taluni piccoli centri è un problema ma mettendo insieme e cooperando e stando insieme tra di loro sicuramente possono poi partecipare a quelli che sono i campionati giovanili per noi è molto importante, quindi Villa Santa Maria è al centro di questo progetto e quindi è un progetto sicuramente interessante A Villa Santa Maria il Presidente Memmo ha promesso di tornare perché anche il Sindaco ha preannunciato e la Federazione tiene molto a questo, all'impiantistica alla messa a norma con un manto in erba sintetica del campo storico di Villa Sì, questa sarà una bella novità ci sarò, così come ho detto in Abruzzo abbiamo in questo anno, passato 2022, inaugurato 17 campi ce ne sono altri 10 che sono in fase di esecuzione che saranno inaugurati nelle prossime settimane e l'impiantistica è un problema molto serio e importante soprattutto perché i nostri giovani è vero che devono fare sport è vero che devono fare calcio ma lo devono fare in strutture sicure quindi un plauso al Sindaco che ha saputo intercettare dei fondi e che sicuramente darà una valenza ancora maggiore a quello che è il progetto territoriale del territorio con la realizzazione di questo nuovo impianto in erba sintetica Il professore Antonio Di Lello che conosciamo in tantissime vesti non poteva mancare per quel che riguarda la sua conoscenza storica di tutto quello che accade a Villa Santa Maria fino anche al mondo del calcio dove tra l'altro lui ha fatto parte nelle vesti di dirigente di questa storica società che è nata ufficialmente sulle carte nel 1962 ma come ci ha testimoniato anche dalla sua documentazione che tra l'altro sfocerà in un libro di prossima pubblicazione risale non dico alla notte dei tempi ma diciamo così quasi Beh diciamo quasi la preparazione diciamo calcistica di Villa per il gioco del calcio possiamo farlo risalire tra il 1920 e il 1925 se pensiamo che il calcio in Italia è nato nel 1898 siamo proprio agli albori cioè un paese che ha saputo subito rispondere a questa grossa novità del calcio e si è data subito da fare una mentalità calcistica che si è sempre più sviluppata fino ad arrivare al 1955 con la fondazione della società sportiva che non è stata mai più fermata in nessun anno fino al 2022 infatti la stessa affiliazione è del 1962 quindi 60 anni fa quello che abbiamo festeggiato oggi praticamente I dirigenti sono passati ma qualcuno forse più di altri merita una particolare menzione Sì ce ne sono diciamo di molti dirigenti ma io ne cito solo quattro ma non perché siano voglio citare Don Vincenzo Fioridi che l'ha creata poi il dottor Rossatti che è stato il fondatore qui a Villa della scuola calcio Pasquale Di Cicco che l'ha ripresa in un momento che stava proprio chiudendo e l'ha portata avanti fino a qualche anno fa con grossi sacrifici e metterei Matteo Di Lello in un periodo che ha ripreso dopo la morte di Pasquale Di Cicco e ha fatto in modo che questa realtà continuasse finora Quello che lei ha detto questa sera raccontato in maniera molto sintetica come dicevamo prima sfocerà in un libro che verrà presentato la prossima estate Sì io lo stavo scrivendo silenziosamente ma poi quando il direttivo ha saputo di questo se no lo presentiamo questa estate e sto raccogliendo una grande mole di foto di storie ovviamente dei personaggi dei calciatori soprattutto che hanno più segnato non un'epoca ma un periodo della storia del calcio di Villa speriamo che possa continuare e che vada bene Matteo Di Lello è stato citato poco fa anche dal professor Antonio Di Lello tra i personaggi che hanno permesso di arrivare a questa data fatidica quella del sessantesimo che non vuole essere sicuramente un punto di arrivo ma più semplicemente di partenza Sicuramente e lo testimonia il fatto che gran parte delle nostre risorse viene incentrata sul settore giovanile che in una zona come questa è forse una delle cose più difficili da portare avanti noi ci stiamo riuscendo coinvolgendo un intero territorio quindi 25-30 comuni che insieme non fanno più di 4-5 mila abitanti che però ci garantiscono il tesseramento di più di 60 ragazzi cerchiamo di portare avanti le annate più numerose attualmente in prima squadra abbiamo inserito 4-5 ragazzi che hanno fatto l'ander 19 l'anno scorso e quindi diciamo che qualche frutto del lavoro quotidiano si vede Il settore giovanile è molto importante lo dicevamo anche con Memmo siete l'ultimo baluardo di queste zone del medio sangro e quindi questo settore giovanile vi potrà garantire un futuro fulgido E questa è la nostra speranza diciamo che per dirla con una frase un po' piuttosto che cercare di pagare un rimborso a un calciatore, un rinforzo diciamo da fuori vallata il nostro auspicio è sempre quello di riuscire ad avere il rinforzo da dentro vallata e di averlo costruito in casa quindi partecipiamo al campionato under 15 provinciale con la collaborazione del Dalm Palena appunto per questa mancanza di ragazzi che coinvolge il nostro territorio abbiamo le categorie primi calci, pulcini e esordienti e cercheremo di portare avanti il gruppo giovanissimi con l'under 17 e poi inserirli in prima squadra Il Sindaco ha promesso qualche succosa e importante novità Sì, questa è una cosa che ci aiuterà sicuramente perché sarà realizzato presto il manto in erba sintetica e capite bene che sia a livello visivo che a livello di comfort e di sicurezza soprattutto per i ragazzi è un elemento che invoglia quindi questo spero che ci porti ad avere un maggior numero di iscritti e un maggior numero di persone che collaborano sul settore giovanile e con la società sportiva per dare ai ragazzi come dicevo un'attività diversa dalla scuola e dalla Playstation o dal bar Da Don Vincenzo Fioriti il fondatore ufficiale del Villa Santa Maria a Giuseppe Baruffal l'ultimo presidente sono trascorsi 60 anni 60 è odioso forse ricordare la data di nascita del Sindaco però tante Sindaco Finamore sono gli stessi suoi anni e quindi doppio motivo di legame con questa squadra del suo paese Sono contento di essere legato diciamo alla nascita della società sportiva che nasce in effetti qualche anno prima nel 55 però poi viene formalizzata con la FIGC nel nel lontano 62 quando sono nato e poi diciamo questo mi ha portato a come dire crescere con la società sportiva che ho cominciato a giocare insomma come tutti i villesi a 12-13 anni dobbiamo ringraziare Don Vincenzo Fioriti che ci ha dato questa possibilità e che ci ha anche formato ci ha formato insomma caratterialmente ci ha fatto diventare uomini poi ci sono succeduti tanti presidenti anche in momenti di difficoltà però sono come dire con caparbietà tutti sono riusciti ad andare avanti e a trovare anche diciamo la luce in fondo al tunnel quindi questo è quello che noi come società perché faccio anche parte della società sportiva diciamo ai nostri giovani che oggi sono calciatori e che probabilmente domani diventeranno dirigenti è importante come dire sostenere la squadra e l'amministrazione comunale insomma lo fa in toto per quello che può dando gli impianti facendo tutto quello che è possibile quello che serve la società sportiva perché la società sportiva serve alla crescita dei nostri ragazzi e dei nostri giovani con anche le attività giovanili quindi diciamo che questa società sportiva ha dato moltissimo a Villa Santa Maria così come tanti villesi hanno donato il loro tempo alla società sportiva perché va ricordato che insomma tutti hanno dato del loro tempo e tolto qualcosa alla famiglia però è stato il bene il bene di tanti giovani che sono diventati anche calciatori illustri come Giannamico Di Stefano Carpineta insomma voglio dire quindi da anche se i numeri sono al nostro sfavore nell'entroterra questa è una società sportiva che resiste e che dà un futuro ai nostri giovani e questo è l'obiettivo della società sportiva e anche dell'amministrazione comunale Lei ha ricordato del campo durante la presentazione ci sono stati problemi burocratici ma che state risolvendo al meglio Sì parliamo praticamente del centro sportivo San Francesco Coracciolo che verrà rifatto interamente in erba sintetica abbiamo fatto il bando questo bando è andato deserto nonostante i 700.000 euro di finanziamento perché? Perché due anni fa è semplice costatare che i prezzi di due anni fa insomma anteguerra erano diversi da quelli di oggi però abbiamo questa mattina facendo un sopralluogo sul terreno di gioco abbiamo visto che è possibile come dire risolvere questa questione con alcuni accorgimenti tecnici e qualche revisione prezzi e quindi in buona sostanza confido che domani mattina il tutto verrà sistemato e quindi andremo avanti sperando di poter terminare questi lavori entro fine giugno in modo da poter avere un'inaugurazione del campo stesso diciamo con una squadra diciamo di livello e quindi questo è quello su cui lavorerò per far sì che tutto questo avvenga per fine giugno